La sessora di Milano ha già abbondantemente accostato le ragioni del ma sono a questa mozione, in particolare la mia sensibilità era anche rivolta a un altro aspetto, oltre a quelle aggettive situazioni, e innanzitutto sull'intervento che mi è preceduto, volevo notare che in questa mozione non si parla di termine esigenziali, quindi non è che si può pronunciarsi su questo ambito quando nella mozione non è prevista. Magari sbagliamo anche di questo, o più avanti, perché comunque adesso è anche il modo di vederlo in un altro posto, si può travalutare senza altro. Restando nel tempo della mia mozione, ecco la mia sensibilità in particolare mi può motivare questo voto comandare non solo per quelle motivazioni di gestorezza dell'assessore, ma anche per quella che secondo me è una strumentalità che c'è dietro anche a questo altro. Adesso non ho intenzione né di fare polemiche, chiaramente un voto né di attaccare nessuno, però è dato, forse, conosciuto anche da chi magari è più avvento e da più tempo in questi banchi che c'è un gioco delle parti anche in consiglio comunale. è quindi spesso che ci sono in una posizione, ovviamente, a piacere, quasi un piacere, diciamo, a presentare un sacco di nozioni, di interrogazioni, proprio perché diventano anche poi oggetto di campagna elettorale, gli istituti, se non siamo in una cosa, però secondo me rappresenta anche che divinano molto bene quella che è la realtà, oppure ovviamente avendo pieno rispetto per quelle che sono spesso in opzioni e interrogazioni che invece hanno un po' di valore politico. altre, e non lo si può negare, sono interrogazioni fatte su dei marciapiedi che magari basterebbe andare in un ufficio, negli uffici comunali, segnalare il caso e si chiederebbe lì, non ci sarebbe bisogno di fare l'interrogazione. Allora, siccome io ritengo che magari, dito questa mozione, tu, vado in alcuni contenuti, ci sono volte le mali problemi già, quantemente detti dall'assessore, anche visioni di carattere strumentale, ecco, io penso che sarà il caso di, appunto, di esprimere la voca di entrare a questa mozione, magari riparlarne tra sei mesi o più avanti, quando magari anche dall'opposizione potrebbe arrivare un messaggio di responsabilità che magari delinea un profilo anche dell'attività politica e dell'opposizione non volta a fare, magari attraverso le emozioni di poco contenuto politico, ma invece volta, magari con serietà, a porre questioni molto chiave per questa amministrazione in questa città. Quindi, per ora, è un po' contrario.